espresso 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 and another espresso il mio amore per il caffè nasce la mattina molto presto intorno alle cinque e mezza e sei già prendo il mio primo espresso diciamo che più che un espresso è un espressone perché mi sveglio molto presto e quindi desidero avere il mio caffè che stimola e che mi prepara per la giornata in ville pleine di couleurs è molto interessante che fa di questa ville una ville unica perché c'è una question molto difficile perché l'equilibrio tra le choreografo e la compagnie è la linea artistica che ogni direzione vuole prendere e quindi non c'è una formule magica non c'è n'existe il y a delle cose che hanno fatto molto bene e delle cose che hanno fatto molto male anche per me la cosa più importante è di guardare la persona e la personale perché io credo che la persona dietro le danseo e la persona dietro le choreografo possono la formule magica 3 persone c'è l'indio c'è l'indio c'è l'indio c'è l'indio 3 persone 3 persone 4 persone 5 persone 5 persone 5 persone